E' una giornata importante oggi per la Toscana. Saremo la prima regione italiana ad aprire un output desk qui a San Francisco, un luogo in cui offrire opportunità alle ragazze e ragazzi che vogliono scrivere un futuro migliore per il nostro territorio. Una collaborazione che ha come obiettivo quello da un lato di sostenere le imprese che vogliono cercare nuovi mercati, nuove opportunità e dall'altro un modo per portare investitori dagli Stati Uniti, dalla California, nella nostra regione. E' una sfida bella, una sfida importante ed è il modo con cui noi, noi istituzioni, vogliamo essere al fianco di chi scommette sul futuro. Taglio del nastro a San Francisco negli Stati Uniti d'America per casa Toscana, lo sportello finanziato dal Consiglio regionale per sostenere e promuovere le start-up e le iniziative imprenditoriali più innovative del territorio nel cuore della Silicon Valley. L'avamposto del sistema toscano è ospitato all'interno di Innovit, lab di innovazione promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'Ambasciata d'Italia a Washington e il Consolato Generale a San Francisco e gestito con il sostegno dell'Istituto Commercio Estero e dell'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco. Innovit è un progetto del governo italiano che mira a stabilire un ponte a lungo termine di collaborazione tra l'ecosistema italiano per l'innovazione e l'ecosistema di San Francisco per l'innovazione. L'obiettivo è quello di favorire l'emergere della migliore innovazione italiana e di portarla qui a San Francisco per essere presentata a potenziali investitori e partner che li possano aiutare a crescere. La regione toscana è la prima regione italiana a credere in questo progetto e a stabilire qui presso Innovit un proprio outpost permanente. Siamo molto contenti di accogliere questo outpost desk che ha dichiarato il direttore del centro di innovazione italiano presso Innovit. La Toscana è una regione importante nel panorama dell'innovazione. Vediamo tantissime opportunità di collaborare qui ad Innovit nei prossimi mesi. Questo è un primo passo e speriamo che altre regioni poi seguiranno in futuro. Vediamo opportunità sul mondo dell'attrazione investimenti. Tantissime aziende sono interessate a cluster tecnologici, pensiamo al biotech, pensiamo alla robotica e tantissimi altri. Ma pensiamo anche soprattutto ai nostri giovani imprenditori e imprenditrici in Toscana che stanno sviluppando tantissime nuove tecnologie e start-up che possano partecipare ai nostri programmi di accelerazione divenuti ora un punto di riferimento qui in Silicon Valley per la comunità italiana. Casa Toscana favorirà la connessione delle imprese, la circolazione delle idee e valorizzerà la presenza dell'eccellenza toscana nel mondo, sottolinea Diego Teloni, advisor di Entopan Innovation. La qualità e l'intensità delle connessioni favoriscono lo sviluppo, l'imprenditorialità e l'innovazione. Con l'Innovation Outpost di Regione Toscana oggi in Silicon Valley esiste un punto di arrivo, una casa toscana che favorisce la connessione delle imprese, delle PMI innovative, delle start-up e che valorizza la presenza dell'eccellenza toscana nel mondo. Assieme al Presidente Antonio Mazzeo alla cerimonia di inaugurazione anche i Vice Presidenti del Consiglio regionale Casucci e Scaramelli. Una grande opportunità per le imprese toscane, in particolare per le start-up innovative. Le start-up potranno essere accolte qui. Questo progetto Innovit che è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Toscana è stata la prima regione a accogliere questa possibilità. Quindi sapremo coniugare le eccellenze storiche della Toscana con la necessità di saperle promuovere in forma moderna e con gli strumenti e le risorse adeguate. E questo è un gran bel passo in direzione dei cittadini e delle imprese della nostra Toscana. Un'opportunità voluta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per dare opportunità alle imprese toscane, giovani imprenditori, di entrare in relazione con la Silicon Valley insieme a San Francisco, insieme a Innovit, insieme al Consolato ovviamente e all'Istituto Commercio Estero per creare opportunità di relazioni, per creare un hub che consentirà ai nostri imprenditori di avere relazioni, di entrare in contatto con gli investitori, trovare opportunità di capitale ma soprattutto creare mercato. Questa è un'opportunità, un dovere che facciamo come istituzioni. Già a dicembre le prime 20 aziende toscane saranno presenti a San Francisco, si replicherà il tutto nel 2024. Intanto a noi il compito è di creare queste condizioni, mettere insieme l'operazione, creare il hub e rendere tutto pronto perché questo incontro possa far crescere le nostre imprese. Riapriremo con impegni altrettanto importanti. Uno tra tutti il piano dei rifiuti che ha avuto un'importante gestazione nell'ambito della Commissione che ha fatto un grande lavoro di audizione e a settembre ci troveremo ad affrontare questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana Strade ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 2024. Quando parliamo di bilancio sappiamo che tutti i temi sono toccati e quindi inizieremo a fare una verifica di quella che è l'attuazione della risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli Stati Generali per quanto riguarda la sanità e avremo questo importante momento di confronto con la società toscana per vedere quello che sarà possibile allocare anche come risorse e quindi trasformare in progetti attraverso il bilancio per l'anno successivo. Dopo la pausa estiva il Consiglio regionale torna a riunirsi la prossima settimana e questi sono i temi cruciali attesi alla riapertura. Secondo il capogruppo del Partito Democratico sul tema rifiuti l'alleato del PD Italia Viva incalza. Ci vuole coraggio per un piano che sia anche occasione di sviluppo. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale dove il rifiuto diventa un valore per la Toscana. Non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare ma si deve trasformare in energia. Questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione e quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in grande rispetto a questo grande tema o altrimenti perderà questa sfida, servirà a coraggio, servirà a capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. E' critico il centro-destra annunci, dice, soprattutto sul tema infrastrutture. Il Partito Democratico sbaglia perché considera oggi la regione toscana una regione attrattiva per chiunque voglia venirci a vivere o a investire. E questo è vero perché oggi la Toscana è una regione attrattiva. Ma dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand toscana, di quella fama, di quella pill che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro, noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni. E siccome in vent'anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura con i ritmi della Toscana e dell'Italia, perché ieri il Presidente Gianni ha parlato di godimento nel vedere partire la talpa dell'alta velocità a Firenze, la talpa doveva partire 17 anni fa. Quindi questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra vent'anni non lo saremo più per nessuno. E noi dobbiamo pensare a quello che succede tra vent'anni, non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula. Io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet. E questo è un tema. Il Presidente Gianni ci ha lanciato la sfida, ha detto che entro la fine della legislatura avrà colmato questo gap digitale, lo aspettiamo al VAR. Io mi auguro di dargli ragione, lo dico prima. Sì, da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese. Partiremo anche come centrodestra con una serie di proposte. Tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centrodestra indetta proprio dai tre capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non sarà l'unica perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori dove batteremo tantissimi temi dall'ambiente alle sanità, alle infrastrutture, alla cultura, alla scuola e allo sport perché da lì partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. Attenzione ai territori, dice la consigliera Tozzi del gruppo Misto che ha annunciato ufficialmente l'ingresso nel gruppo di Fratelli d'Italia. Dal mio punto di vista, come eletta nella provincia di Firenze, continuerò a portare avanti quelle che sono state le battaglie che hanno dato anche dei risultati importanti. Penso alle risorse che arriveranno in Alto Mugello per sostenere i piccoli comuni che hanno dovuto affrontare l'emergenza all'Uvione. Penso alla sfida delle infrastrutture. Penso al Valdarno che attende da tanto tempo che finalmente si sblocchi un'opera strategica come quella del secondo ponte. Penso all'attenzione costante al tessuto produttivo. Penso al mondo dell'artigianato che è stato in qualche maniera accantonato anche in questo piano regionale di sviluppo alle tante sfide che attendono proprio la crescita della regione toscana. Ambiente, diritti, lavoro, sottolinea invece il Movimento 5 Stelle. Queste devono essere le priorità. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze. Tutte le questioni che riguardano l'inizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scellerati come la terza torre di Novoli, inaudita in un momento come questo, e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche. Molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a due, tre velocità, come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta. Cambiano le norme in Toscana in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo. Il Consiglio regionale, nell'ultima seduta, prima della pausa estiva, ha approvato a maggioranza la nuova legge regionale che modifica la normativa vigente in materia. C'era bisogno di aggiornarla, adeguarla e ammodernarla anche a quanto registriamo, ad esempio, sotto il profilo dei mutamenti climatici. Il nuovo calendario infatti sposta in avanti i termini per la raccolta del tartufo. Il nostro obiettivo è stato quello di mantenere, di raggiungere un equilibrio e un punto di condivisione fra i vari interessi e le varie tradizioni che nei territori agiscono, fra coloro che giustamente pagando un tesserino alla regione toscana, e sono migliaia, hanno diritto ad avere un territorio dove esercitare la propria attività e la propria passione con il lavoro prezioso che fanno le associazioni dei tartufai sul versante della manutenzione e della preservazione di un territorio, così come legittimamente operano anche le imprese che gestiscono le tartufaie controllate. Un percorso fatto anche di confronto, erano tanta le osservazioni pervenute. Al termine il testo passa, come detto a maggioranza, 22 voti favorevoli, PD, l'astenzione di Lega e Fratelli d'Italia, il no di Italia viva. Ho votato convintamente contro perché a mio avviso il tartufo è un prodotto straordinario del territorio toscano, è una peculiarità unica del nostro territorio, è una sorta di oro e lasciare libera la raccolta e la fruzione senza una peculiarità, senza la coltivazione, senza il fatto che l'impresa e il lavoro possano trarne un vantaggio ovviamente collettivo, ma ovviamente a favore del lavoro, dell'impresa, delle opportunità che tanti giovani stanno facendo e vivendo nel territorio toscano, a mio avviso è un grave errore. Il Partito Democratico si è assunto una responsabilità pesantissima, rischia di distruggere la storia e la tradizione non soltanto della raccolta ma anche della cultura, del tartufo, del lavoro e della fatica dell'uomo. Chi coltiva una tartufaia, chi lo produce, chi la lavora, chi mette in sicurezza idraulica un territorio fa un lavoro, per il territorio lo fa per se stesso, lo fa dentro un quadro di regole che in questo momento consentivano a molti ragazzi, a molte ragazze di fare impresa. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato il lavoro, debba essere tutelata la promozione, debba essere tutelata la valorizzazione di un prodotto che è sì del territorio, è sì spontaneo, ma se coltivato produce una redditività importante e una produzione. La storia ci dimostra che laddove si è coltivato infatti si trova ancora ed è non è un caso che da altri territori vorrebbero andare a uniformare le normative. Avevamo proposto molte alternative, quella di differenziare nelle sette aree di provenienza toscana una differenziazione delle norme, si è voluto tirare dritto, a mio avviso è un grave errore. Ha provato anche un ordine del giorno che impegna la Giunta a implementare già dalla prossima variazione di bilancio le risorse destinate agli interventi di valorizzazione e promozione, prevedendo uno stanziamento minimo di almeno 150 mila euro l'anno. Un punto di equilibrio che fosse il più possibile rispettoso sia di coloro che coltivano e che quindi hanno modalità di coltivazione tutto l'anno, sia per le persone che hanno la volontà di andare a fare una libera ricerca del tartufo nel territorio regionale, con un'attenta anche mappatura che dovrà essere redatta ancora più precisamente sulle zone che siano effettivamente e realmente produttive di tartufo, cercando di limitare e di dare una definizione precisa agli orari per la cerca del tartufo, alle zone di addestramento cani e quindi quelle che sono le regole sia per la Regione ma anche per i comuni per disciplinare quella che è una materia sicuramente molto complessa e molto importante e una grande fonte non solo di economia ma anche di hobby per questa Regione che ne fa di un prodotto di grande valorizzazione e di richiamo in tutta la nostra Regione. Quindi il punto di caduta credo sia un punto che non ha snaturato ma che ha cercato di valorizzare e di dare in qualche modo una giusta risposta a tutti coloro che per un motivo o per un altro hanno la volontà di cercare questo prezioso prodotto. Grazie per la visione! Grazie!